Fai ridere perché viva la libertà, il fatto che tu possa essere qua durante una live alle 10 di un lunedì sera parlando con il vicepresidente del consiglio, noi stiamo parlando di autonomia, stiamo parlando anche di codice della strada che spero venga approvato, ripeto, entro il mese di luglio per portare un po' di regole, un po' di salute, un po' di rispetto, un po' di buonsenso sulle strade italiane, difendendo ad esempio anche le due ruote, i ciclisti e i motociclisti, stiamo lavorando per i guardrail salvavita fino a terra, per salvare la vita a chi scivola in motorino o in moto, quindi il fatto che tu possa venire qua a insultare, certo ti definisce, però mi dice che siamo in un paese libero. Matteo, voterete la Ursula von der Leyen? No, la Lega l'ha promesso prima delle elezioni, ci avete votato in più di 2 milioni e lo manteniamo dopo le elezioni, la Lega non voterà mai in Europa una maggioranza con la sinistra, con i socialisti, con i comunisti e con Macron. Dove c'è Macron, che continua a parlare di guerra, non c'è la Lega, noi siamo per la pace, per la serenità, per il lavoro, per il benessere, non per le guerre e quindi non faremo mai un accordo, non metteremo mai i 2 milioni e 100 mila voti che ci avete dato per andare a rappresentarvi in Europa al servizio della sinistra, dei socialisti e dei comunisti. Saluto Mel, saluto Salvatore, Matteo, quando parto nei lavori per il ponte, entro a fine dell'anno, se tutto va come spero che vada, è un diritto per milioni di cittadini italiani, non solo per siciliani e calabresi, Matteo, ti ho votato e ne sono orgoglioso, grazie, perché anche grazie al tuo voto la Lega è cresciuta rispetto alle elezioni politiche, sono crollati i 5 stelle e non sono stati eletti in Europa Renzi e Calenda, e quindi è il bello della democrazia, quindi gli italiani hanno punito i grillini e hanno detto a Renzi e a Calenda voi in Europa non mandate neanche un esponente, mentre grazie a voi la Lega ne manda 8. Ti ho votato, saluto a mio figlio Gigi, ma lo saluterei anche se tu non mi avessi votato. Domani peraltro ho una riunione anche sul codice degli appalti, mi collegherò con l'Università Cattolica di Milano e poi con l'Associazione Nazionale Costruttori, perché il codice degli appalti è qua, chi ha più di vent'anni sa di che cosa stiamo parlando, tagliare i tempi, gli sprechi della burocrazia, perdere meno tempo negli uffici pubblici per cominciare un'opera pubblica, per cominciare un cantiere, per appaltare dei lavori, e quindi è passato quasi un anno dall'entrata in vigore di questo codice degli appalti, è entrato in vigore il primo luglio dell'anno scorso, faremo il tagliando per sistemare qualcosina che magari va migliorato, però sono orgoglioso perché abbia dato lavoro a centinaia di migliaia di persone, facendo perdere meno tempo. Matteo ci vuole il rinnovo degli auto ferro-tranvieri, è vero e ci stiamo lavorando. Matteo mi raccomando, leggi più severe per chi maltratta gli animali, sì, hai pienamente ragione, sto lavorando da ministro dei trasporti per permettere agli italiani di avere meno problemi per andare in vacanza con i loro cani, con i loro gatti, e nel nuovo codice della strada c'è anche il ritiro breve della patente per chi abbandona degli animali lungo le strade. Non so se siete d'accordo, sì o no, qualcuno ha detto, ma è una punizione esagerata. Però io penso che abbandonare il proprio animale lungo le strade per andare magari a farsi la vacanza tranquillo sia un comportamento criminale, disgustoso, barbaro, incivile e anche pericoloso. Sì, Matteo hai ragione, sono d'accordo, lo penso anch'io, sì, sì, vai avanti, mi raccomando. Test di ingresso a medicina in futuro, noi siamo per il superamento del test di ingresso, siamo per l'abolizione, la Lega ha nel suo programma e ci stiamo lavorando, e i primi passi in commissione li abbiamo fatti, per abolire il numero chiuso alla facoltà di medicina, per spalancare le porte a ragazze e ragazzi che sognano di fare i medici. Quindi la selezione non si fa con il test, con le crocette in base alla fortuna, ma la selezione la farà il merito, la faranno i voti nei primi mesi e quelli che più meriteranno andranno avanti, gli altri si fermeranno. Matteo mi raccomando, avanti con l'autonomia, l'ho detto, questa dovrebbe essere la settimana buona. Basta soldi a Zelensky, mi scrive Antonio. È esattamente quello che ha detto Donald Trump, ogni volta che si siede a un tavolo torna a casa con miliardi e miliardi di euro. Noi siamo per la difesa del popolo ucraino aggredito assolutamente. Però chi ha scelto la Lega, e anche chi non l'ha scelta, però penso che milioni di italiani vogliano la pace. È ora che i litiganti, i combattenti, è ora che Ucraina e Russia tornino a sedersi al tavolo per trovare una soluzione di pace. E su questo ha ragione il Santo Padre. Matteo come faccio a iscrivermi alla Lega? Mi cogli impreparato. Chi vuole informazioni sulla Lega, qua ci sono tantissimi ragazzi, si può dai 14 anni in su, scrivete in posta privata su Instagram, nome, cognome, indirizzo, e vi mandiamo tutte le informazioni del caso. Pensate che per avere il libro... Matteo Salvini, Via Tal dei Tali, 2047 Milano, e vi mandiamo a casa quello che chiedete. Anzi, se avete proposte anche cosa chiedete alla politica. Perché molti giovani non sono andati a votare alle elezioni di domenica scorso. Molti diciottenni, ventenni non sono andati a votare. La metà degli italiani non è andata a votare. Quindi è una sconfitta. È una sconfitta per tutta la politica e anche per me. Qualcuno fa finta di niente. Per me, se la metà dei cittadini non vanno a votare, vuol dire che non siamo abbastanza bravi a fare, a spiegare. Quindi se avete voglia di avere informazioni, domande, se avete voglia di scrivere che cosa chiedete alla politica, in posta privata su Instagram, poi ci metteremo un po' a rispondere. Non garantisco che nell'arco di poche ore rispondiamo a tutti, però risponderemo. Salvini Quattrocchi. Sì, ho gli occhiali perché se tolgo gli occhiali fatico a leggervi. Però mi domando quanti neuroni abbia una persona che alle 10 di un lunedì sera, invece di fare altre cose, guardarsi una serie tv, leggersi un libro, andare a un concerto, far l'amore, o mangiare, o chiacchierare, o fare una passeggiata, viene su una diretta di uno che evidentemente mi sta simpatico a dire Salvini sei brutto e sei un Quattrocchi. Applauso. Grazie Matteo perché sei uno dei pochi che ci racconta cosa succede in Parlamento. È un mio dovere, non è solo un mio piacere, ma è un mio dovere. Mi raccomando Matteo superare la legge Fornero e arrivare a quota 41. È il nostro obiettivo, cancellare la legge Fornero. Matteo ti piacciono i maschi? No, preferisco le donne, degustibus. Poi il problema non è essere eterosessuali, omosessuali, transessuali, il problema è rispettare il prossimo. Quindi io ho visto le immagini dei Pride con tanta brava gente che reclamava libertà d'amore, assolutamente sì, l'omofobia è una malattia mentale che va punita, però quelli che vanno in giro mezzi nudi, facendo casino, insultando, bestemmiando, no. Quello non è Pride, quella è maleducazione. Matteo ricordati che noi marittimi purtroppo non possiamo votare, è vero. Chi lavora sulle navi sono tante persone che non possono votare e stiamo cercando di ragionare su come avvicinare il voto. Matteo fammi buona fortuna per l'esame. In bocca al lupo a tutti quelli che stanno per arrivare all'esame, all'esame di terza media, all'esame di maturità. Quanti maturandi ci sono collegati e che materia state studiando? Io ho votato Vannacci, Forza Lega. Grazie. Ricchi, meno male che Matteo c'è. Matteo, cosa ne pensi di Ilaria Salis? Che chi prende i voti ha ragione. E quindi sicuramente è una candidatura particolare. Io rispetto chi prende i voti. Sicuramente non penso che sia, dal mio personalissimo punto di vista, il massimo dell'immagine per l'Italia. Una signora che era detenuta all'estero con accuse gravissime di violenza fino a poco fa. Ecco, io preferisco il generale Vannacci e gli eletti e le elette della Lega che hanno la fedina penale pulita. Io sto preparando storia, io sto preparando biochimica. Vannacci, Matteo, cosa pensi di Berlusconi? Un grande, un grande. Silvio Berlusconi è stato uno dei più grandi in assoluto. E chi l'ha criticato, infamato e offeso per trent'anni è stato solo un chiacchierone. Io sto studiando filosofia, Matteo, sto preparando storia, dammi una mano. Io adoravo storia, ho fatto anche storia all'università. Mi piaceva soprattutto la storia medievale. Mona mi chiede cosa pensi dei musulmani. No, non ci sono i musulmani. Io penso che gli estremisti fanatici siano pericolosi, di qualunque religione siano. E penso che chi interpreta fanaticamente l'Islam, e faccio un esempio, in tanti paesi islamici purtroppo l'omosessualità è un reato. In tanti paesi islamici l'omosessualità è punita con la pena di morte. E con il carcere. Ecco, io penso che nel 2024, se un paese nel nome dell'Islam condanna a morte un'omosessuale o una lesbica, sia un paese retrogrado. E quindi mi domando come ci faccia qualcuno a sostenere che gli islamici debbano poter essere liberi di fare quello che vogliono in Italia quando altro che gay pride nei paesi musulmani. E quindi ringrazio gli islamici presenti in Italia che rispettano le nostre leggi, il nostro modo di essere, di vivere, di lavorare, di pregare e di ragionare. Matteo, ti aspettiamo a Trieste. Salvini torna a Bolzano. È due città straordinarie, sia Trieste che Bolzano. Spero di tornarci presto. Matteo, cosa state facendo per la sanità? Abbiamo approvato un decreto per tagliare le liste d'attesa, aumentando un pochino gli stipendi dei medici e degli infermieri che meriterebbero tantissimo, però aumentando lo stipendio di medici e infermieri e aprendo gli ospedali e gli ambulatori per le visite anche di sera e nei festivi per provare a tagliare un po' di liste di attesa. Matteo sta per ricominciare la partita. Lo so, non voglio rubarvi troppo tempo, anzi, però, ragazzi, siamo partiti che eravamo alcune centinaia, siete quasi 10.000 collegati in questo momento. Matteo, votato Lega, più libertà di azione alle forze dell'ordine. Assolutamente sì, sempre e comunque con le forze dell'ordine. Saluto Asia e Brigida. Cosa ne pensi degli LGBT? Io penso che ognuno sia libero di amare chi vuole, di baciare chi vuole, di passare la sua vita con chi vuole e stasera di fare l'amore con chi vuole. Basta rispettare il prossimo. No, basta rispettare anche chi fa una scelta diversa e chi fa una vita diversa. Matteo, perché sei contro la droga? Perché fa male. Perché fa male. Perché le droghe fanno male. Ci sono tantissimi modi per passare il tempo, per divertirsi, senza fottersi l'anima e il cervello. Matteo, che ne pensi della leva obbligatoria? Tanti paesi stanno reinserendo il servizio militare. C'è una proposta di legge della Lega per introdurre il servizio civile, il servizio militare, ovviamente non per insegnare la guerra, ma per insegnare il pronto soccorso, il salvataggio di uomini, di donne, l'intervento in caso di terremoti, di alluvioni, di calamità naturale, lo spegnimento incendi. Ecco, sei mesi di una grandissima educazione civica per ragazze e ragazze in tutta Italia, penso potrebbero servire a tanti. Matteo, ti ho votato e ne sono orgoglioso. Grazie. Matteo, ti aspettiamo a Nuoro. Ho questa settimana un collegamento con Nuoro per collegare con la rete ferroviaria nazionale anche la provincia di Nuoro, che è l'unica in tutta Italia a non avere un collegamento con la rete ferroviaria nazionale. Quindi da ministro dei trasporti cerco di essere ovunque ci sia un problema su strade, autostrade e ferrovie e mi spiace per i ritardi dei treni che ancora spesso, ahimè, si verificano. Matteo, cosa state facendo per il benessere degli animali? L'ho detto. Io da ministro dei trasporti, ad esempio, nel nuovo codice della strada ho previsto il ritiro breve della patente per chi abbandona gli animali e la Lega ha fatto una proposta di legge per aumentare le pene per chi maltratta o uccide gli animali. Saluto Martina, saluto Luigi, Matteo, scusate, qua l'occhiale Eccomi, Matteo, sono un professore pensate anche a noi. È vero, c'è l'esame di terza media e la maturità non è solo per gli studenti ma è anche per gli insegnanti. Grazie, grazie alle prof, grazie ai prof. Fate il lavoro più bello, più prezioso, più impegnativo e più faticoso del mondo e mi spiace che ogni tanto qualche studente o qualche genitore venga ad alzare le mani contro chi educa i propri figli. Saluto Gilbert, Nana, grandissima, Matteo, sei favorevole al salario minimo? Bisogna ben pagare tutti i lavoratori? Tenete presente che l'Italia ha già la copertura dei contratti collettivi nazionali per la stragrande maggioranza dei contratti quindi bisogna sconfiggere il lavoro nero però imporre per legge un salario minimo per assurdo rischia di abbassare tantissimi stipendi di coloro che oggi hanno un salario più alto rispetto al minimo e si li vedrebbero scendere. Forse i soldi hanno un salario più alto rispetto al minimo e si li vedrebbero scendere. Grazie. Nome, cognome e se volete avere delle informazioni se volete avere del materiale abbiamo mandato anche a tanti di voi il libro Controvento che c'è ancora in libreria quindi se volete far parte di una comunità che sta crescendo pensate che solo nell'ultima settimana un milione di like in più a quello che mettiamo su TikTok. Cerchiamo ovviamente il mio intento è di portare l'azione politica l'azione del governo l'azione del Parlamento nelle vostre scuole nelle vostre classi nelle vostre fabbriche il mio fidanzato Paolo ti ha votato quindi grazie a Paolo spero che anche tu un domani possa farlo. Saluto Simone Salvini cosa pensi di Vannacci? Una bella persona una persona in gamba una persona valida una persona d'onore e di parola. Matteo mi mandi il libro ti ho scritto su Instagram con un po' di pazienza arriverà a tutti Matteo cosa pensi degli albanesi? Onore all'Aquila un popolo di grandi lavoratrici e lavoratori un popolo fiero un popolo orgoglioso la comunità albanese una di quelle meglio integrate in Italia. Matteo perché fare politica? Perché fare politica? Io ho cominciato ai tempi del liceo ho fatto la tessera della Lega che avevo 17 anni pensate ragazzi era il 1990 molti di voi non erano neanche lontanamenti nella testa di mamma e papà perché se fai politica puoi cambiare in meglio la vita delle persone e penso alle leggi contro l'immigrazione clandestina approvate grazie alla Lega penso alla flat tax alla tassa piatta del 15% che più di 2 milioni di lavoratrici e lavoratori con partita IVA stanno usando e stanno risparmiando una marea di soldi e una marea di tempo penso al nuovo codice della strada penso alle tante strade autostrade e ferrovie che stiamo progettando penso al ponte sullo stretto penso alla diga di vetto sull'appennino reggiano penso alla TAV per unire velocemente Torino e Lione penso al tunnel del Brennero per arrivare in 25 minuti da Bolzano a Innsbruck e quindi politica per me significa chiedere la vostra fiducia chiedere la vostra attenzione chiedere il vostro voto e poi fare qualcosa di utile e poi se i cittadini ti dicono bravo ti rivotano e vai avanti se invece ti dicono no guarda hai sbagliato non hai fatto niente votano qualcun altro e quindi per me avere il consenso di tante persone ancora 2 milioni e 100 mila italiani che domenica scorsa hanno scelto il simbolo della Lega più di mezzo milione che hanno scritto il nome di Roberto Vannacci vuol dire che nel cuore di tanti italiani nella mente di tanti italiani ci siamo certo lavoro per esserci ancora di più e sempre di più Matteo mi raccomando la strada statale 106 in Calabria giusto ahimè conosciuta come statale della morte abbiamo stanziato 3 miliardi per sistemare la statale 106 ionica in Calabria Matteo cosa pensi del Papa onore al Santo Padre mi piace Papa Francesco quando parla di pace quando costringe i politici a tornare a occuparsi di pace e non solo di guerra come vorrebbe Macron e spero che alle elezioni in Francia del 30 giugno e del 7 luglio stravinca il Rassemblement National di Jordan Bardella che vorrei vedere primo ministro e dell'amica Marine Le Pen saluto Roman Matteo secondo te la terra è piatta? no assolutamente immagino che la terra sia tonda che che ne possa pensare tu saluto Francesca dopo 20 anni in Italia ho finalmente ricevuto la cittadinanza un bacione benvenuto e benvenuta cosa ne pensi della gente che impenna in moto? a me basta che la gente rispetti le regole rispetti il buon senso rispetti la sua vita e la vita degli altri quindi vuoi impennare in bici vuoi impennare in moto in cortile per carità fallo se pensi che andare in giro su una ruota in autostrada in tangenziale o su strade pericolose sia qualcosa di intelligente non sono d'accordo con te Matteo cosa pensi degli immigrati? io penso che in Italia ci siano milioni di stranieri per bene e sono i benvenuti sono miei fratelli il problema sono i clandestini sono gli spacciatori gli scippatori gli stupratori e i delinquenti che lavoriamo per rispedire tutti a casa loro i clandestini e i delinquenti tutti a casa loro abbiamo già i delinquenti italiani non ci servono i delinquenti e tutto il resto del mondo anche perché poi li pagate voi li paghiamo noi un saluto a Giuliano un saluto a Vale Matteo vieni a Padova ci sarò a luglio a Padova Matteo cosa pensi del Milan speriamo ragazzi speriamo perché il Napoli ha preso Antonio Conte la Juve ha preso Tiago Motta noi abbiamo preso Fonseca non so cosa ne pensiate Matteo la maturità fammili in bocca al lupo in bocca al lupo ecco chiudiamo come abbiamo aperto con la maturità ascoltatevi notte prima degli esami di Antonello Venditi che compie 40 anni cosa ne pensi della Sardone della Tovaglieri della Lega ne penso bene sono state elette le avete elette per mandarle al Parlamento europeo e quindi sono contento per loro e per voi Matteo ti ho visto a forte ieri grazie sei un grande grazie ieri sì qualche ora di relax no non è Antonello Venditi che compie 40 anni è la sua canzone notte prima degli esami che compie 40 anni dai chiudiamo con chi sta preparando la matura cosa state studiando che poi vi lascio studiare che vi ho rubato anche troppo tempo 219 mila like Matteo mi raccomando avanti con l'autonomia sì assolutamente ciao dalla Svizzera Matteo mi raccomando il ponte sullo stretto sì cosa pensi del governatore della Liguria Toti che è una brava persona e in un paese normale sarebbe libero non sarebbe agli arresti per settimane per mesi è stato scelto dai Liguri più volte come governatore di una terra straordinaria come la Liguria mi sembra veramente un atto di prepotenza tenerlo agli arresti impedendo a lui di continuare a fare il suo lavoro in Italia si è innocenti fino a prova contraria per certi magistrati uno invece è colpevole fino a prova contraria cosa ne pensi di Giuseppe Conte ma gli italiani gli hanno dato una bella lezione stando a quello che erano i sondaggi e quelli che invece sono stati i voti veri la Lega ha quasi raggiunto i 5 stelle siamo quasi pari e quindi sono convinto che se lavoreremo ancora bene supereremo tranquillamente i 5 stelle sto studiando Falcone e Barsellino bravo ti aspettiamo la festa della Lega di Soncino assolutamente sì onore a Silvio Berlusconi sono d'accordo con te forza Inter mi scrive qualcuno con tutti i cuoricini neri e azzurri siete stati fortissimi chapeau con un po' di invidia detto da milanista Matteo lavorate anche per aumentare le pensioni di invalidità hai assolutamente ragione ci sta lavorando il ministro della disabilità Alessandra Locatelli Matteo mi raccomando non votate la von der Leyen in Europa no no e poi no la Lega non voterà mai Ursula von der Leyen non faremo mai assolutamente accordi con i comunisti con la sinistra e con Macron un saluto da Bergamo saluto Liliana saluto Matteo da Pandino Ibrahim mi scrive forza Mila ragazzi Teo adesso torno a studiare storia in bocca al lupo se riusciamo ci vediamo ancora domani adesso mi vado a vedere il secondo tempo di Austria Francia Matteo ma tu sei Salvini davvero è vero perché qualcuno mi dice ma un ministro sta a parlare anche con noi sì per me è un dovere raccontare che cosa faccio perché i politici sono pagati da voi i politici li pagate voi quindi i politici che non raccontano mai come stanno occupando il vostro tempo e come stanno usando il vostro denaro secondo me sbagliano e quindi ovviamente un ministro domani mattina va in ufficio ho i collegamenti con l'università con i costruttori con gli imprenditori abbiamo riunioni sulle ferrovie per evitare disagi problemi e ritardi sui treni soprattutto per i pendolari però per me ascoltare il vostro parere è assolutamente fondamentale è un dovere ed è un piacere Matteo un saluto da Brindisi che ha ospitato il G7 Matteo ti sfido su Minecraft no non sono non sono fortissimo sui giochi elettronici il salario minimo ripeto per assurdo rischierebbe di abbassare gli stipendi di milioni di lavoratrici e lavoratori perché le aziende potrebbero dire allora se il salario minimo è di dico un numero 10 euro all'ora io oggi te ne do 14 e te lo abbasso perché mi basta essere in linea col salario minimo secondo me bisogna lasciare alla libera contrattazione fra aziende e lavoratori la scelta del salario altrimenti si abbassa la qualità della vita e del salario per milioni di lavoratrici e lavoratori saluti da Barletta da Reggio Emilia Matteo legalizza la droga no no e no poi magari facciamo una live ecco facciamo una live solo sul tema droga droghe leggere marihuana cocaina cannabis canapa allora le sostanze per uso terapeutico assolutamente sì ma sballarsi mettere a rischio la propria vita il proprio cervello il proprio cuore i propri polmoni con le droghe mai nella vita io acconsentirò allo stato spacciatore ci sono tante altre maniere per divertirsi e passare il tempo in compagnia e con gli amici tanto che tanti paesi che l'hanno legalizzata stanno tornando indietro stanno tornando indietro perché vedono i risultati disastrosi della libera distribuzione e consumazione delle droghe ecco io penso che ci possano essere tante altre maniere per divertirsi che non eh 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 mai male a nessuno e poi hanno rischiato di metterci la pelle perché poi non torni più indietro quindi assolutamente per quello che mi riguarda le droghe ogni tipo di droga va combattuta piuttosto io sarei per la legalizzazione della prostituzione quello sì controllata sanitariamente tassata tolta dal racket tolta dalle strade perché fare l'amore in maniera protetta e responsabile non ha mai fatto male a nessuno se per libera scelta drogarsi invece fa male saluto corsico saluto nocera saluto cagliari eh Matteo tu fumi no ho smesso io fumavo sigarette in maniera abbastanza sciocca ero arrivato a fumare anche due pacchetti di Marlboro fortunatamente cinque anni fa ho scelto e non ho più toccato una sigaretta Matteo cosa pensi del nucleare sono assolutamente a favore del nucleare il nucleare pulito di ultima generazione è la forma di produzione energetica più sicura meno impattante dal punto di vista ambientale perché non produce neanche più scorie quindi io penso che chi ama l'ambiente debba dire di sì al nucleare che è il futuro che è la modernità che è l'unico modo per abbassare le bollette della luce per tante famiglie per tante imprese chi dice di no al nucleare ecco o mi spiega perché o non mi convincerà mai quindi magari una live sulle droghe sulla legalizzazione delle droghe un'altra live sul nucleare domani in bocca al lupo perché si riparte con l'autonomia un'altra live sul ponte sullo stretto che tante domande sta raccogliendo un'altra live sul nuovo codice della strada saluto la terza B di Ruviera Salvini cosa ne pensi della flat tax che tagliare le tasse semplificare la vita ai lavoratori è fondamentale quindi grazie alla flat tax al 15% voluta dalla Lega più di 2 milioni di partite IVA stasera stasera già stanno pagando solo il 15% di tasse stanno risparmiando una marea di tempo ecco questa è la politica rispondendo al ragazzo di 15 anni che mi ha detto cos'è fare politica la politica è prendere il voto mantenendo gli impegni mantenendo le promesse e poi piano piano facendo quello che semplifica che migliora la qualità della vita dei cittadini cosa ne pensi di questi europei non lo so viva l'Italia poi non so chi è più forte comunque assolutamente tifo per gli azzurri saluto Saronno saluto Palermo saluto Sesto San Giovanni saluto Andrea Matteo come faccio a scriverti ecco posta privata su Instagram nome cognome indirizzo e piano piano risponderemo a tutti e stiamo crescendo e grazie perché questo è il bello non i politici che vanno in televisione e dicono solo la loro valorità ma anche i politici che ascoltano poi con molti di voi sono d'accordo qualche idea la stiamo tramutando in legge con altri di voi è il bello della democrazia non sono d'accordo quelli che passano il tempo a insultare e bestemmiare sono mononeuronici quindi non mi interessano saluto Magenta saluto Stefano saluto tutte le forze dell'ordine compreso Roberto bacione bocca al lupo e se ce la faccio ci aggiorniamo anche domani buona serata a tutti